Dal 10 al 16 agosto le Forze Armate della Federazione Russa hanno effettuato 17 attacchi di gruppo con armi di alta precisione e droni d'attacco contro imprese del complesso militare industriale dell'Ucraina, infrastrutture aeroportuali e luoghi di raccolta e stoccaggio di droni d'attacco. Inoltre sono stati colpiti depositi di carburante, aree di concentrazione delle riserve delle Forze Armate Ucraine, punti di dislocazione temporanea delle formazioni nazionaliste e dei mercenari stranieri. Le unità del gruppo Voice Sever respingono i tentativi di invasione delle Forze Armate Ucraine nel territorio della Federazione Russa in direzione di Kursk. Con gli attacchi di aviazione dell'esercito, droni e fuoco d'artiglieria sono stati inflitti danni alle forze vive e alle tecniche delle unità di due Brigate meccanizzate d'assalto delle Forze Armate Ucraine e della Brigata della Guardia Nazionale. Sono stati sventati i tentativi di avvicinamento delle riserve nemiche. Nei settori di Volchansk e Lipsk sono state colpite le forze vive e le tecniche di due Brigate meccanizzate, due Brigate d'assalto delle Forze Armate Ucraine, una Brigata dei Marines e due Brigate della Difesa Territoriale. Sono stati respinti quattro contrattacchi dei gruppi d'assalto delle Forze Armate Ucraine. Le perdite del nemico in questa direzione durante la settimana ammontano a circa 2.665 militari. 33 carri armati, 221 mezzi corazzati da combattimento, tra cui 13 veicoli da combattimento di fanteria Bradley e 8 trasporti truppe corazzati striker di produzione americana, nonché 117 veicoli. Durante le operazioni di controbatteria sono stati distrutti sette sistemi di lancio multiplo e 34 pezzi di artiglieria da campo. Distrutte tre unità missilistiche anti-aerese moventi Patriot di fabbricazione statunitense e Buk M1, nonché quattro stazioni di guerra elettronica. Nel corso della settimana le unità del gruppo Voizapad hanno avuto l'obiettivo di distruggere il Buk M1, occupando posizioni strategiche. Hanno inflitto perdite a cinque brigate meccanizzate, un'aeromobile, una d'assalto delle forze armate dell'Ucraina e due di difesa territoriale, respingendo 12 contrattacchi. Il nemico in questa direzione ha perso fino a 3.450 militari in una settimana. Sei carri armati, 18 veicoli corazzati da combattimento, di cui 9 veicoli corazzati per il trasporto truppe M113 di produzione USA e 34 veicoli. Inoltre, durante la guerra contro batteria, sono stati colpiti 36 cannoni d'artiglieria da campo, di cui 15 obici e 6 moventi di produzione USA, Germania e Polonia. Sono state distrutte quattro stazioni di guerra elettronica e contro batteria e 23 depositi di munizioni da campo. Le unità del gruppo meridionale delle truppe hanno migliorato la posizione lungo la linea del fronte, infliggendo perdite alle forze vive e alla tecnica delle quattro brigate meccanizzate, motorizzate, tre d'assalto, due aeromobili delle forze armate ucraine e delle brigate di difesa territoriale. Respinti quattro contrattacchi di gruppi d'assalto nemici. Le forze armate ucraine in questa direzione hanno perso fino a 3.825 militari, 9 veicoli corazzati da combattimento, 29 autoveicoli, 50 pezzi di artiglieria campale. Sono stati distrutti tre depositi di munizioni da campo. Come risultato delle azioni attive delle unità del gruppo Voice Center sono stati liberati gli insediamenti di Lisichne, Ivanovka e Sergevka DNR. Sono state inflitte perdite a quattro brigate di fanteria meccanizzata, due brigate d'assalto delle forze armate ucraine e una brigata di difesa territoriale. Sono stati respinti venti contrattacchi delle unità nemiche. Durante la settimana in questa direzione le perdite del nemico ammontano a circa 3.195 militari, quattro carri armati, di cui due Abrams di fabbricazione statunitensi, 15 veicoli corazzati da combattimento, 23 automobili e 29 pezzi di artiglieria campale. Le unità del gruppo di forze Vostok hanno assunto posizioni migliori, infliggendo perdite a due brigate meccanizzate di fanteria e due della difesa territoriale delle forze armate ucraine. Hanno respinto 8 contrattacchi delle forze ucraine. Durante la settimana in questa direzione il nemico ha perso fino a 770 militari, 34 automobili, 19 pezzi di artiglieria campale. Sono stati distrutti 8 depositi di munizioni da campo. Le unità del gruppo Vosodnepr hanno colpito formazioni di brigate meccanizzate, di fanteria, di assalto di montagna delle forze armate ucraine, brigate marine e di difesa territoriale. Le perdite delle forze armate ucraine in questa direzione durante la settimana ammontano a circa 555 militari, due veicoli da combattimento di fanteria, 48 automobili, 14 pezzi di artiglieria campale, di cui 6 obici, M777 di produzione USA. Distrutte 3 stazioni di guerra elettronica e 8 depositi di munizioni sul campo. Aviazione operativa tattica, droni, forze missilistiche e di artiglieria dei gruppi di truppe delle forze armate della Federazione russa, un caccia su 27 è stato distrutto nell'aeroporto di base dell'aeronautica ucraina. Distrutti 3 veicoli da combattimento a lancio multiplo di razzi HIMARS di produzione USA. Con i mezzi di difesa antiaerea è stato respinto durante la notte un attacco combinato di 12 missili tattici operativi ATACMS di produzione statunitense contro il ponte di Crimea. Tutti i missili sono stati distrutti. Inoltre, durante la settimana, sono stati abbattuti un elicottero Mi-8 delle forze aeree ucraine, 8 missili tattici TOCA-U, 11 bombe aeree guidate AMER di produzione francese e J-DAM di produzione statunitense, 4 missili antiaerei guidati del sistema Patriot di fabbricazione statunitense e il Buk M-1, 70 razzi di artiglieria, HIMARS di produzione statunitense e il Vampir di produzione cieca e 543 droni. Le forze della flotta del Mar Nero e delle forze aerospaziali russe hanno distrutto tre imbarcazioni senza equipaggio della Marina Ucraina e ne hanno danneggiata una. Durante la settimana, lungo la linea del fronte, si sono arresi 57 soldati ucraini. Dall'inizio dell'operazione militare speciale sono stati distrutti 638 aerei, 279 elicotteri, 30.050 droni, 569 sistemi missilistici antiaerei, 17.307 carri armati e altri veicoli corazzati da combattimento, 1.406 veicoli da combattimento di sistemi a razzo a lancio multiplo, 13.895 pezzi di artiglieria da campo e mortai, 24.833 unità di veicoli militari speciali.